Torna l'incubo del terrore nella capitale britannica, dove questa volta, a essere presi di mira, sono i fedeli musulmani, della moschea di Finsbury Park, investiti da un furgone bianco nella notte subito dopo la preghiera serale del sacro mese di Ramadan. Al momento si contano un morto accertato, e almeno otto feriti ricoverati in ospedale, tre gravi, mentre l'uomo alla guida è stato arrestato dalla polizia dopo esser stato tirato fuori dal veicolo da alcune delle persone scampate all'investimento e bloccato in quella che testimoni hanno definito una violenta colluttazione. La premier Theresa May ha dichiarato. E' un potenziale attacco terroristico. Annunciando per la mattinata la riunione d'un comitato di emergenza da lei stessa presieduta. L'uomo del Rio cinesi L'uomo del Rio la mattinata la riunione di nuovo Punti Grazie a tutti